Simone del Mestre grande protagonista di questa sofferta vittoria se il punteggio è rimasto in parità fino al gol partita di Monti molto si deve a te quel rigore parato a Vigliani vale come un gol si è andata bene e valso perché alla fine il gol di Monti l'ha fatto valere e quello l'importante rigore è andata bene sia stati fortunati perché comunque ci vuole anche un pizzico di fortuna però è importante per il carattere perché è una vittoria che vale doppio dal punto di vista del carattere anche per come è maturata probabilmente perché è un primo tempo dove la Triestina sembrava forse essere un po' bloccata dal punto di vista mentale da questo obbligo forzato di ottenere i tre punti per rimettere il naso avanti qual è stato secondo te il problema principale? A parere mio subiamo sempre un po' le squadre di carattere e molto fisiche secondo me all'andata e durante il giorno dell'andata è stata la squadra che ci ha messo più in difficoltà e per di più in casa nostra sapevamo che avremmo trovato un lumignacco ostico così e non abbiamo regito come dovevamo alla lunga per fortuna la qualità è venuta fuori e abbiamo portato a casa tre punti che valgono il doppio. Tutto sommato il gol è arrivato in una circostanza abbastanza fortuita per come è nata l'azione però tutto sommato soprattutto nel secondo quarto di secondo tempo per cui nell'ultima mezz'ora circa la Triestina ha fatto valere il maggior tasso tecnico e anche fisico insomma si è visto che il lavoro in settimana paga abbastanza alla lunga. Beh sicuro facciamo due allenamenti in più degli altri e alla lunga gli ultimi 20 minuti fisicamente abbiamo sempre dimostrato di esserci. Il gol è arrivato sì in modo fortunoso però Luca era là è stato freddo sotto porta ed è quello l'importante. Importante anche perché c'erano delle defezioni alcuni che purtroppo non potranno essere disponibili in tempi brevi tipo Enrico da Ross è comunque una vittoria fondamentale adesso la palla passa all'UFM che per la prima volta anche se con una partita da giocare in meno rispetto cioè una partita giocata in meno rispetto all'Unione per la prima volta si trova dietro in classifica e voi capolista solitaria sarebbe un bel sogno poter essere in questa situazione anche domani sera. Sì sicuramente sia stati già bravi a rosicare dieci punti in soli sei partite al Monfalcone se adesso ci fanno la cortesia anche di pareggiare domani beh tanto di cappello sicuramente l'assenza sarà lunga purtroppo quella di Enrico da Ross che era un periodo dove stava anche molto bene però se non l'altro abbiamo visto in settimana rientrare Michael Cardin che anche lui sta sta bruciando i tempi e ha una gran voglia di darci una mano. Magari già col Fontana Fredda che sarà un'altra partita di quella da prendere con le pinze anche lì in attacco i numeri non mancano. Fabbro del Prete ha in valore i numeri sicuramente non mancano. Spero per Michael che ce la faccia essere disponibile per domenica se no abbiamo la fortuna che adesso arrivano le due settimane di sosta e non sarà la partita in più o in meno che gli cambierà la vita. Per cui allora possiamo ringraziare Simone grazie soprattutto te lo staranno dicendo tutti i tifosi della Triestina perché davvero senza quella parata sul calcio di rigore di Vigliani forse adesso staremmo parlando in un'altra partita. Sicuramente grazie a Monti che dopo ha reso valore al rigore parato e grazie ai tifosi che non mancano mai di sostenerci e di macinare chilometri per darci una mano in più.